Salve a tutti, sono Vladimiro Carboni e oggi mi trovo qui alla musica di Gabbani a Massa Carrara con uno stupendo modello di Sakai Trilogy, una marca e un modello del quale sono diventate endorser da pochissimo, parliamo di questo set che qui in negozio è in Champagne Sparkle che è la finitura customizzabile disponibile in Italia con le seguenti dimensioni 14x6.5 per il rullante, 10x7 primo tom, secondo tom 12x8, primo timpano 14x14 e secondo timpano 16x16 con cassa 22x18, parliamo della costruzione del fusto di questa serie di batterie della Sakai, made in Japan, made in Osaka, qui abbiamo una serie in ashero pioppo ashero con il pioppo interno e i reinforcement rings, quindi anali di rinforzo nella battente e poi anche quindi nella risonante. Il tutto è finito con Silver Coating, quindi adesso non ci resta che ascoltare qualche test, qualche brano che abbiamo registrato qui di nuovo alla musica di Massa Carrara se volete visionare e provare questa stupenda Sakai Trilogy e al prossimo test, ciao! Scherzo, Scherzo, Scherzo's andיתaba berna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.